Salve, vedo una faccia nuova e tu non sai chi sono, io sono Showgame01 Faccio il video di Minecraft, PlayStation 4 Faccio il video di Geordia, PlayStation 4 E poi faccio il video di Uncharted 4 E faccio le live su Uncharted, FIFA 17 Spacchetto anche su FIFA 17 E faccio il video sul telefono in cui canto le canzoni E provo i giochi E faccio le live anche di Pokémon Tra quello del telefono, che c'è un emulatore E Pokémon del computer Come Pokémon di Geordia Online Uncharted 4 Spacchetto anche su FIFA Allora, se vuoi iscriviti Che ti divertirei molto Ciao